buongiorno buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vorrei parlarvi del primo episodio di pokemon evolutions e dirvi cosa ne penso al riguardo devo dire la verità è stata un'ottima idea creare questa mini serie animata per commemorare i 25 anni di anniversario del franchise dei pokemon però a dire il vero non è tutto oro quel che luccica perché il primo episodio è stato bello ma chiamarla serie anime forse troppo infatti penso di chiamarla serie di cortometraggi anime dei pokemon perché il primo episodio è durato poco più di 7 minuti e probabilmente sarà così per ogni episodio che ne saranno 8 un episodio per ogni regione iniziando dall'ultima ossia galar ed arrivando dove tutto ebbe inizio cioè canto a cosa abbiamo visto in questo primo episodio della mini serie qui abbiamo visto ciò che accadde nella notte oscura e lo scontro con eternatos ed arrivando fino all'inizio dello scontro del campione dandel contro lo sfidante che sarebbe ovviamente il protagonista dell'avventura dei giochi pokemon spada e pokemon scudo diciamo che accadono le medesime cose che succedono nel gioco ma in chiave anime e disegnate ed animate piuttosto bene infatti sono stati bravissimi ad animare eternatos in 2d hanno fatto un lavorone ma il punto focale dell'episodio non sta nel mostrarci cose che già conoscevamo ma ci ha mostrato un qualcosa che noi non avevamo mai visto cioè la tristezza e lo sconforto dell'invincibile dandel infatti l'episodio inizia con lui che ripensa a ciò che accade nella notte oscura e questo lo distrugge dentro e la parte dove viene mostrato il suo occhio è a dir poco fantastica possiamo davvero empatizzare per lui possiamo capire perfettamente cosa sta provando in quel momento lui che era imbattibile ed invincibile è stato sconfitto da eternatus e non solo lo sfidante è riuscito a sconfiggere il pokemon leggendario e lo ha addirittura catturato quindi diciamo che gli ha messo leggermente i piedi in testa se vogliamo usare un linguaggio di strada ma le scene che ho adorato sono principalmente due la prima è quando charizard protegge i due ragazzi sott'ordine di dandel possiamo anche vedere la schiena del pokemon di fuoco tutta arrossata quindi il colpo lo ha subito ma nonostante questa grande sconfitta il charizard di dandel crede ancora in lui e vuole continuare ad essere suo amico infatti l'abbraccio che il campione dà al suo charizard è veramente emozionante infatti quella è la mia seconda scena preferita questo corto ci ha mostrato un dandel diverso un dandel emotivo un dandel che nonostante la scorza dura da allenatore invincibile con queste scene ci hanno fatto capire che all'interno è pur sempre un essere umano che possiede dei sentimenti ma la sconfitta subita da eternatus gli ha fatto anche capire che non può sempre vincere e il grosso sospiro che fa prima di entrare nel campo per il grande scontro con lo sfidante ci fa intuire perfettamente il suo stato d'animo questo primo episodio su galar mi ha fatto adorare il personaggio di dandel ancora di più di prima e spero anche che gli altri episodi scavino nei sentimenti dei personaggi più duri e indistruttibili della serie pokemon ma parlando dell'episodio a livello di disegni ed animazioni devo dire che mi è piaciuto ed anche molto infatti ci sono rimasto male quando ho letto 7 minuti e 47 perché ne volevo di più volevo un episodio più lungo almeno 20 minuti sicuramente hanno voluto prendere come esempio pokemon generation che ho apprezzato tantissimo quindi ci sta dai inoltre dato che io odio più o meno la computer grafica ma devo dire che in questo caso l'hanno usata divinamente e non dà per niente fastidio hanno persino dato una voce al protagonista infatti sono rimasto scioccato di questa cosa e parlando di voci e quindi di doppiaggio quello italiano lascia un po' a desiderare il coro dello stadio è alquanto cringe infatti il doppiaggio inglese è altamente superiore a quello italiano però mi ha stupito perché non pensavo che lo doppiassero anche nella nostra lingua ma è sempre meglio vederlo anche in inglese credetemi è meglio alla fine penso che continuerò a vedere gli episodi perché riescono ad intrattenerti e il corto è fatto anche molto bene e spero che il doppiaggio italiano sia migliore nei prossimi episodi mi è piaciuto dai e a voi è piaciuto cosa vi ha colpito di più qual è stata la vostra scena preferita e volete che continui a fare video su questa miniserie pokemon fatemelo sapere e detto ciò video è finito se vi va di seguirmi su instagram trovate il link in descrizione vi ricordo come sempre la collaborazione con pampling ed usando il codice il gun 91 avrete diritto ad un paio di calze in regalo trovate il link in descrizione spero che il video sia stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e non dimenticate di entrare nel canale telegram di one piece unity dove troverete tanti fan di one piece con cui discutere pacificamente e noi ci sentiamo come sempre in un prossimo video